Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Reggio Italia Oggi siamo qui in questa nuovissima recensione Siamo a recensire un cavo USB di ricarica per i nostri dispositivi Apple Perché come ben sappiamo l'Apple ha dei cavi talmente diversi Dai soliti Ringrazio il venditore Kimpsbuy per avermi fornito questo fantastico prodotto Andiamo subito ad aprire il nostro pacco All'interno del pacco, oltre al cavetto, non troveremo niente altro Tranne che questa fantastica Sricco di... per raggrovigliare il nostro cavo Ma non è niente di che, perché sono convinto che nessuno di voi andrà ad utilizzarla Io ho compreso Come si vede già dalla foto e dal video È un cavo non rivestito in guaina di plastica Ma è un cavo rivestito in nylon intrecciato Questo qua è un cavo che ricarica dispositivi Apple Con il connettore Light 9 È un cavo da circa 2 metri E esso è dotato anche dei pin per il trasferimento dati E non tutti i cavi che compriamo da internet non originali hanno il trasferimento dati Inoltre questo cavo è stato certificato dalla Apple MFI Quindi ricarica perfettamente il nostro iPhone Ed è compatibile al 100% con iOS 8 e iOS 9 Io l'ho potuto testare anche su iOS 10 E ricarica anche su iOS 10 Niente, è un cavo abbastanza lungo Circa 2 metri E ci permette anche se la presa si trova da un'altra parte Cioè in 2 metri penso che ce la facciamo Quindi ricarica tutti i dispositivi Apple, iPhone, iPad e molto altro Sono rimasto veramente soddisfatto di questo prodotto E noi ci vediamo alla prossima recensione A presto